Sotto qui è sempre alta la bandiera Dalla caserma Aurelio Grue di Teramo risuona l'inno di Mameli, la bandiera italiana issata, i vigili del fuoco avvolgono il piazzale di Via Diaz con il tricolore, calandosi dall'autoscala per celebrare le penne nere di oggi e di ieri nella caserma che ha ospitato fino al 1996 la 61esima Compagnia Alpini e che ne ha visto il ritorno in una manifestazione di tre giorni. Prima sono stata all'acola tre giorni, poi mi hanno spedito qua e dormiva la terza finestra, il terzo piano. Nel 1994 fino a maggio 1995, mi ricordo intanto i miei 27 anni perché eravamo più giovani e quindi l'entusiasmo di quell'età e poi il senso di appartenenza e l'amicizia che si crea solo nel servizio militare con gli altri comminitori. Oggi rientrare in quella caserma è stata un'emozione grandissima, a differenza di più di 45 anni fa che quando sono entrato lì c'era timore perché non si conosceva la vita della naia, si andava un po' allo sbaraglio. Oggi invece è stata un'emozione grandissima. Alle 10.30 dopo gli onori al vessillo e la deposizione della corona in ricordo ai caduti è iniziata la sfilata per il centro storico verso Piazza Martiri della Libertà invaso da centinaia di penne nere accompagnate dalla fanfara e dal coro alpino. Un'intera città ha salutato in piazza le sezioni alpine che hanno partecipato a questa tre giorni terminata nella consegna della benemerenza della provincia all'Associazione Nazionale Alpini e al commovente gemellaggio fra il gruppo di Teramo e il gruppo Umbria di Firenze. Quando ti prende la malinconia pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia, quante domande senza un perché, ma l'amicizia sai è una ricchezza e un tesoro che non finirà. Metti da parte questa tua tristezza, canta con noi, la tristezza passerà.